Prosegue la preparazione della Virtus Lanciano in vista dell'incontro valevole per la non aggiornata del campionato di Serie B in programma sabato prossimo alle ore 15 allo stadio Guido Biondi contro il Perugia. Per quanto riguarda la squadra di Andrea Camplone si può parlare di un momento decisamente negativo anche a voler lasciare da parte la delicata questione del DS Roberto Goretti. Il Perugia sta vivendo giorni complicati dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato rimediata contro il Frosinone. Negli ultimi giorni infatti sono arrivate pessime notizie dal fronte infortunati è arrivato il responsa sulle condizioni fisiche di Giacomazzi, Rossi e Fossati. Per l'uruguaiano c'era una flebile possibilità di poterlo recuperare in vista proprio della sfida contro il Lanciano sabato prossimo ma gli esami strumentali hanno riscontrato una elongazione del gemello mediale con sofferenza a livello fasciale. Della stessa sorte è toccata anche alla giovane Marco Fossati mentre la terza brutta notizia per il Perugia arriva sul conto di Marco Rossi. Per il 28enne difensore niente trasferta dunque a Lanciano. Nel frattempo il tecnico della Virtus Lanciano Roberto D'Aversa analizza l'attuale momento della sua squadra. Il clima dopo una vittoria è sempre bello, è chiaro che ci vuole il giusto equilibrio come quando magari si perde una partita e bisogna essere equilibrati, lo si deve essere anche quando magari si vince in questa maniera. Quello che mi fa piacere è che avete detto voi che sicuramente vedere un attaccante e mandare il compagno in golle è una cosa molto importante e fa capire lo spirito non più dell'io personale ma magari lo spirito di squadra, quella è la cosa più importante. E fa piacere soprattutto, come ho già detto anche ai ragazzi, vedere quei ragazzi che non hanno giocato e allenarsi in quella maniera a fine partita è motivo di grande soddisfazione per noi.